Con le nostre sperimentazioni stiamo imparando un poco alla volta a comprendere il modello di interfaccia grafica che rende disponibile Java. Ne ho approfittato anche per riorganizzare un minimo il codice in modo più organico e ho eliminato alcune parti che mi erano servite soltanto a fare le nostre prove. Il perimetro, la cornice, come suggerisce il termine frame, più esterno di quell'area che andremo a chiamare finestra, è un JFrame. Ma al suo interno la superficie visibile definisce il content pane che può essere un JPanel come vedremo o qualcos'altro e ne abbiamo già uno automaticamente inserito nel momento in cui si crea il JFrame. Possiamo accedere a questo contenitore con il metodo getContentPane del JFrame ed è a lui che dobbiamo indirizzare al content pane, ad esempio, il comando per cambiare il colore dello sfondo. Un piccolo suggerimento che è anche una piccola ottimizzazione nei tempi di esecuzione è, siccome capiterà spesso di dover fare riferimento a questo content pane, è un po' scomodo ed è anche un po' più lento, tutte le volte fare eseguire il metodo getContentPane di finestra. Per cui, essendo qualunque content pane che viene poi inserito nel JFrame di classe container, più generica contenitore, possiamo definire un container contenuto e salvare qua riferimento al nostro content pane, quindi, una volta per tutte, e poi lavorare sul contenuto. Sfruttando la console come terminale per lo standard output, possiamo, anche se stiamo lavorando in grafica, stampare alcune informazioni che ci potrebbero interessare. Ad esempio, ma, andiamo a vedere effettivamente che cos'è questo contenuto, cioè questo content pane. Dovrebbe stamparci la classe di riferimento. Mando all'esecuzione, eccolo qua. Al momento, ma potrebbe anche cambiare in futuro, il container standard che viene per noi creato automaticamente quando creiamo un JFrame, è un JPanel. E ora siamo più o meno ritornati al punto in cui ci siamo lasciati alla fine del video precedente. Scoprendo che la disposizione degli oggetti, come queste etichette, che abbiamo aggiunto al content pane, al JPanel, che fa da content pane per il JFrame, è demandata al cosiddetto layout manager, a uno di quelli che possono essere attivati, tra parentesi. Cioè, un gestore dell'impaginazione degli oggetti che appaiono sulla finestra. Ma qual è il layout manager attivo di default? Purtroppo non lo possiamo scoprire come abbiamo fatto con il content pane, chiedendo semplicemente di stampare il contenuto getLayout, perché quello che si ottiene è questo, e non è facilmente intellegibile. Possiamo andare un po' per tentativi. Ci domandiamo con un if se questo layout manager è un'istanza di... E qua tentiamo col border layout, che poi è anche quello effettivamente attivo. Se è così, facciamo scrivere che appunto è attivo il border layout. Proviamo. E la risposta è sì. Ovviamente, se avessimo provato per una delle altre tipologie, non avremmo ottenuto nessun messaggio di conferma. Facciamo una prova. Se ricordate, una delle altre tipologie è il flow layout. Non viene stampato nulla. Quindi, effettivamente, è il border layout, il layout manager attivo. Il border layout prevede la presenza, non obbligatoria di tutte, ma fino a 5 diverse aree, corrispondenti a questa zona, questa fascia superiore, quella inferiore. Notate anche questi page start, page end, perché sono le costanti predefinite che poi potremo usare per dire dove andare a disporre rispetto al border layout i nostri componenti. Poi, una zona centrale, suddivisa in 3. La parte iniziale, line start, center e line end. La caratteristica di questo schema è che tende a disporre gli oggetti lungo i bordi, da cui il suo nome è border layout, perché tutto lo spazio in eccesso che non viene utilizzato viene concentrato in quest'area, nell'area centrale, per cui, se ci pensate, in questo modo abbiamo la disposizione lungo i bordi. Sfruttiamo allora queste informazioni per riprenderci un po' il controllo di quello che succede sulla finestra. Quando aggiungiamo un componente visuale a un container, come il jpanel corrispondente del content pane del nostro jframe, si può anche aggiungere un secondo parametro che inizia con il tipo di layout che è attualmente quello utilizzato, il border layout, quindi, punto e scoprire che possiamo dire in quale delle posizioni che prima vi ho mostrato piazzare quell'elemento. Ci sono anche dei comodi sinonimi, perché page start, page end, qualcuno potrebbe preferire nord, sud, est, ovest, quindi il page start, che è la parte che sta in alto, sulla cartina è il nord, giusto? Quindi comincio con la n e mi propone subito in subito north. Ok. La seconda etichetta andiamo a metterla dal capo opposto, a sud. Bird, border, layout, south. Ok. Poi l'etichetta, pur messa in alto e in basso, si espanderà su tutta quell'area, ma sarà confinata nella fascia superiore e inferiore rispettivamente. Mai vediamo un pochettino al di là dell'orripilante scelta di colore del testo. Adesso vediamo di cambiarlo. La prima etichetta, che è quella blu, color blu, l'abbiamo messa a north, cioè qui, e si espande, se non dico diversamente. E quella successiva, la label 2, nella fascia inferiore, a sud. Cambio subito il colore, questa volta non del background, ma del foreground, cioè del primo piano, cioè del testo, di ciò che si vede in primo piano, sopra lo sfondo. Label 1, set foreground, color, white. E sicuramente il risultato è nettamente più comprensibile. È vero che abbiamo fatto un po' più di fatica, no? Per arrivare a questo punto, però abbiamo anche dei benefici, perché il layout manager, a questo punto, mantiene la posizione relativa di queste etichette, lì dove l'abbiamo pensata, in rapporto agli altri elementi che potremmo andare a mettere poi sulla pagina. Queste due etichette rimarranno sempre ai bordi, ridimensionando la finestra, il layout manager, ricalcola dimensione e quant'altro. Proviamo adesso con la combinazione est-ovest, est-destra e west-ovest a sinistra. Da qui deduciamo che la fascia laterale corrisponde al line start e line end, ricordate questa zona e questa zona. Viene ridimensionata in base al contenuto. Questa seconda etichetta, essendo più larga, va ad allargare anche la fascia che corrisponde al line end. Inoltre, essendo questa l'unica etichetta, e anche questa presente in quella fascia, la occupa tutta. Potremmo chiederci se sia possibile aggiungere un'altra etichetta, una seconda etichetta, sempre nella fascia di sinistra, o west-west. La risposta è no. Soltanto un oggetto nel board layout può essere inserito in una certa area. La seconda etichetta inserita ha sostituito la precedente. Vi sembra molto limitante? Nessun problema, avete la possibilità di scegliere tra un nutrito gruppo di altri layout manager e la prossima volta ne vedremo ancora uno o due.